Lo sportello di ascolto per mobbing sul lavoro all'ospedale San Salvatore dell'Aquila si riorganizza. Al lavoro un team di 5 servizi integrati, medicina del lavoro, psichiatria, psicologia, medicina legale e tossicologia delle dipendenze, con prenotazioni al CUP in tutti gli ospedali o distretti sanitari della provincia dell'Aquila. Il servizio, affidato all'autorevole guida del nuovo direttore, il professor Antonio Poletti, possono accedere tutti i cittadini, dipendenti pubblici o privati, tramite richiesta del proprio medico di famiglia che valuta se, in linea di massima, il disagio rientra nell'ambito dell'ambiente di lavoro. Con la certificazione del proprio medico di base l'utente si prenota, tramite CUP, negli ospedali dell'Aquila, Vezzano, Sulmona e Casteldisangro oppure nei distretti sanitari. Per prendere l'appuntamento ci si può recare di persona alla sede di prenotazione della zona di residenza oppure telefonare al CUP. Nel secondo caso sarà possibile chiamare il centro prenotazione a partire dal 18 novembre prossimo al numero gratuito 800 862 862. Al call center l'interessato deve fornire dati riportati sulla ricetta del medico di famiglia, specificando che si tratta dello sportello mobbing. A conclusione della prenotazione telefonica occorre attendere la conferma, di solito immediata, dell'appuntamento fissato dall'operatore CUP con l'indicazione di giorno e ora del primo accesso al servizio. Alla data fissata l'utente raggiunge l'ospedale dell'Aquila, dove viene sottoposto alla prima visita, gratuita, all'ambulatorio situato nel blocco L2B. In seguito alla prima visita, effettuata nel medico del lavoro, viene fatta una prima valutazione e vengono poi disposte due visite specialistiche, una psichiatrica nel reparto dell'ospedale diretto dal professor Alessandro Rossi e l'altra psicologica, che viene eseguita nello stesso ambulatorio da uno psicologo del Dipartimento di Salute Mentale, diretto da Vittorio Sconci.